salve amici bentornati sul mio canale perché nuovo io sono luca faustino e questo è il diritto semplificato ti invito ad iscriverti al canale e a lasciare un like prima di cominciare a vedere il video questo è il terzo episodio dedicato alla serie il diritto penale e oggi parlerò come vedete dal titolo dell'omicidio doloso è bene fare una piccola premessa e precisare che da sempre costituisce la fattispecie primaria a tutela del bene fondamentale della vita nel corso della storia l'omicidio è stato considerato talora in chiave puramente individualistica cioè quale delitto contro la vita individuale e talora in chiave pubblicistica quindi come crimine contro la collettività il nostro codice contempla tre forme di omicidio quindi in stretta correlazione in stretta corrispondenza della diversità dell'elemento soggettivo del reato distinguiamo l'omicidio doloso quello colposo e quello preterintenzionale oggi come vedete dal titolo parleremo dell'omicidio doloso gli elementi descrittivi del reato di omicidio doloso come vedete sono molteplici partiamo dal primo l'omicidio doloso è un reato comune cioè non è richiesta una particolare qualifica in capo al soggetto attivo e ciò vale per tutti i delitti contro la vita esclusa comunque l'ipotesi di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale per quel che concerne il fatto materiale la condotta è comune alle altre figure di omicidio e consiste come molti sanno nel cagionare la morte di un uomo in qualsiasi modo in qualsiasi modo significa che la morte può essere ragionata sia con una lesione materiale o anche mediante quella che viene chiamata violenza psichica sulla vittima l'ulteriore elemento importante direi fondamentale è quello del nesso di causalità quindi deve sussistere un nesso di causalità tra la condotta attiva od omissiva è l'evento accertabile tramite riferimento al modello della sussunzione sotto leggi scientifiche ed è l'autentico baricentro dell'incriminazione costituendo la base del rimprovero il terzo elemento descrittivo l'evento morte è preso in considerazione dall'articolo 575 del codice penale e corrisponde al concetto di morte cosiddetta cerebrale con quest'ultima si intende la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo in concreto l'accertamento dell'avvenuto decesso però può risultare molto complesso quanto al comportamento doloso è bene precisare che il dolo consiste nella coscienza e volontà di cagionare l'evento morte e la dottrina ritiene che oggetto del dolo non debba essere considerato soltanto l'evento ma l'intero fatto tipico alla luce di una corretta lettura combinata con l'articolo 47 del codice penale di conseguenza nel caso dell'omicidio doloso l'oggetto della rappresentazione e della volontà è costituito dalla condotta e dall'esito letale con riguardo all'intensità del dolo e quindi in riferimento all'abolizione dell'evento morte vengono presi in considerazione le nozioni di dolo intenzionale, dolo diretto e di dolo eventuale darò una sintetica definizione quindi di quelli che vengono considerati gli elementi poi che vanno a differenziare il comportamento interno del soggetto attivo e quindi del dolo generale per soffermarmi dopo sul dolo intenzionale diretto ed eventuale quanto al dolo generico, cui facevo riferimento poc'anzi, l'oggetto del dolo non è appunto solo l'evento ma l'intero fatto tipico e nel caso dell'omicidio doloso l'oggetto della rappresentazione e della volontà è costituito dalla condotta e dall'esito letale da qui distinguiamo il dolo d'impeto, in cui la decisione di uccidere del soggetto è improvvisa e repentinamente portata ad esecuzione il dolo di proposito, dove tra l'ideazione e la realizzazione dell'omicidio intercorre uno stacco temporale tale da legittimare l'idea di una consapevole e meditata riflessione il dolo intenzionale, in cui il soggetto mira a realizzare con la sua azione o domissione quello specifico risultato il dolo diretto invece, il soggetto conosce tutti gli elementi che integrano la fattispecie di reato e prevede come sicuro o altamente probabile che la sua condotta porterà a integrarli il dolo eventuale invece l'agente compie un'azione che di per sé può essere lecita prevedendo ed accettando che le conseguenze della sua condotta possono però configurare un illecito penale tornando ai nostri elementi descrittivi del reato per quel che concerne il quinto elemento, quindi il soggetto passivo dell'omicidio questo è solo ed esclusivamente l'uomo non rientra nella fattispecie il semplice concepito ed al contrario si deve considerare già uomo il feto dal momento in cui ha iniziato il distacco dall'utero della donna il limite estremo per potersi parlare di un essere umano vivente è segnato naturalmente dalla morte di conseguenza oggetto materiale dell'omicidio non può essere un cadavere e quindi il comportamento di chi pone in essere atti diretti ad uccidere un soggetto già deceduto va a concretizzare il cosiddetto omicidio putativo ovvero, secondo altra opinione, un omicidio impossibile per inesistenza dell'oggetto dovendosi trattare di un essere umano vivente ma non necessariamente vitale è inammissibile sceverare dall'oggettività giuridica tutelata la vita del malato incurabile o del moribondo ergo, anche l'anticipazione della morte di un uomo per una minima frazione di secondo costituisce omicidio ai sensi della norma in esame ci sono delle situazioni in cui l'evento morte ha particolari conseguenze e questo quando il soggetto deceduto va a ricoprire delle particolari qualifiche infatti è previsto agli articoli 276 e 295 del codice penale una sorta di aggravante qualora l'oggetto del reato sia il capo dello stato o capo di stato esteri o il sommo pontefice o comunque quando si tratti di soggetti quali l'agente di polizia, carabinieri o comunque tutti quegli agenti che sostanzialmente svolgono una funzione di ordine all'interno del nostro ordinamento del nostro territorio. Bene il video è concluso vi invito ad iscrivervi al canale ad attivare la campanella in quanto potete immediatamente essere aggiornati sulla pubblicazione dei miei video. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao